amici zagoriani buongiorno eccolo qua il primo bis della storia zagoriana un album speciale che va inserito nella numerazione zenith ma completamente scollegato alla continuita alla alle storie ora in corso di pubblicazione sappiamo che sta per partire zagor per un per il viaggio in europa per uno scontro con il vampiro la cosi ok diamo un'occhiata com'è questo albo e cosa ci propongono con questo bis intanto notiamo subito che nella grafica è annunciato cioè lo strillo è nella fascia orizzontale alta con scritto albo bis estate 21 storia inedita e completa rimangono i log dei festeggiamenti e la copertina molto bella secondo me di piccinelli se gli diamo un'occhiata un pochino proprio montita possiamo notare soltanto la bellezza anche sul tubo della della canoa le rifiniture movimento dell'acqua gli alberi a me sembra una gran bella copertina al di là dell'impostazione e della proprio della della fotografia secondo me è una tecnicamente è bellissima ed è a me piace ok nella cosa vediamo che il 723 bis viene messo in basso ovviamente quindi è identica a tutta la sequenza delle cose della serie zenith con un bis sotto ok in quarta di copertina troviamo tutti gli albi bis che arriveranno in edicola vedete dragonero tex zagor nata nevere di land dog quindi dedicata ai numeri speciali bis che troveremo in edicola una cosa interessante curiosa è vedere sul codice a barre collana orizzontale numero 5 16 luglio 21 quindi viene registrata come collana orizzonti scusi scusate ma orizzontale collana orizzonti numero 5 quindi viene usata la registrazione di questa collana probabilmente per una comodità editoriale diciamo allora secondo di copertina pubblicità del libro di cui arriverà il filmato anche di questo tra poco ragazzi il secondo libro della storia delle storie di hellingen tutte raccolte in questa serie di 7 volume abbiamo già visto il primo qui moreno vediamo sui tamburi di darkwood di cosa ci parla dunque andiamo a vedere velocemente allora sì dunque ci dice leggo quella ragazzi e dunque che gli speciali sono nati con cico poi hanno cominciato a prendere piede con martin misteri bis poi di land dog speciali così ci parla un pochino della di come sono nati questi speciali queste collane extra fuori serie che diciamo conclude dicendoci che in questo album farà ritornare un personaggio apparso prima volta in un album del 2016 ah sì questo non lo sapevo questo questa storia si rifà a non umani quella storia sì del 2016 di cui molto hanno chiesto la ricomparsa vabbè ma andremo a leggere la cosa strana che dice moreno è che questa storia si svolge in tre fasce temporali ma andremo a vedere ok sfogliamo un attimo velocemente per dare un'occhiata guarda che bella invece infatti c'è queste tavole vedete ragazzi hanno sono promette dei flashback hanno delle inquadrature libere senza vignette devo dire che i disegni di mangiantini quando si tratta di foresta o del genere si trova decisamente a suo agio si vediamo anche le inquadrature dal basso dall'alto si decisamente non male si ok beh quindi storia di chi è la storia non ve l'ho detto che non mi ricordo andiamo a vedere ah di burattini burattini mangiantini ok dunque nella quarta di copertina in terza di copertina scusate le due uscite estive quella di luglio che abbiamo già visto e quella in edicola 4 agosto le notte di londra che fanno appunto riferimento alla alla trasferta esagoriana in europa ok ragazzi il bis oggi in edicola andiamo a vedere com'è questa storia a questo punto è un fantascienza immagino non umani c'erano questi questi esseri alieni vabbè ok in edicola ragazzi da oggi il primo zagorbis un uomo in fuga buona giornata a tutti